Nel Vangelo di questa domenica c'è una delle frasi più famose del Vangelo, anche diventata proverbiale. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non guardi, non vedi la trave che è nel tuo occhio. È chiaro che Gesù continua il discorso della misericordia che è già affrontato nella pagina precedente, però possiamo fare una riflessione un po' diversa oggi. Perché noi ci chiediamo come mai è così facile per noi andare a prendere la pagliuzza dimenticandoci della nostra trave. È un meccanismo di difesa, nel senso che se io riesco a attribuire il male all'altro, quindi la colpe dell'altro, il male dell'altro, io sono come dire, mi tiro fuori da questo gioco, in fondo mi assolvo. Cioè non riesco a prendere consapevolezza e tantomeno a confessare che il male che io vedo attorno a me abita anche dentro di me. Ma senza questa percezione, questa coscienza, il male continua a governare la mia vita. Cioè mi illudo di essere io il padrone della mia vita, ma sono come dire prigioniero di un male che certo io ho coltivato, ho realizzato, ma che adesso è più forte di me, di me che l'ho come dire iniziato. E allora Gesù dice è inutile dare sempre la colpa all'altro perché il male non è solo fuori di te, non è solo una minaccia per te, ma è una realtà con cui tu devi fare i conti, con cui tu devi venire alle mani, proprio perché senza questa confessione e poi questa volontà di conversione il male ti dominerà. Certo che uscire da questa logica non è possibile semplicemente prendendo coscienza della realtà negativa, occorre aprire il cuore alla misericordia di Dio, al suo perdono. Ma tutto questo non può avvenire se non a partire appunto dalla mia confessione. Io vedo il male intorno a me ma devo confessare che il male è anche dentro di me e questo male è forte, è molto forte, soprattutto se io non lo voglio riconoscere, non lo voglio vedere. Allora il punto di partenza certamente non può che essere il bene che mi viene incontro, ma il bene che mi viene incontro paradossalmente mette ancora più in risalto il male che è dentro di me. Allora la confessione del male, la presa di distanza dal male che mi abita è il primo passo verso la conversione e questo è il Vangelo che è sostanzialmente un preludio alla quaresima che ci attende, dove appunto l'invito alla conversione sarà certamente molto più grande e la percezione della misericordia di Dio certamente maggiore. Buona domenica!